Ce ne andiamo però a Padova per raccontarvi parallelamente a quello che noi invece proveremo ad analizzare in studio la storia di una donna bellissima, Lucrezia Bellini, per tutti è la beata Eustorchio. Guardate, è una storia che pochissimi conoscono, per cui chiedo aiuto assolutamente alla nostra Antonella Venta che dovrebbe essere pronta. Antonella, a te. Lucia, buongiorno da Padova. Quello che vedete alle mie spalle è il Duomo, il luogo forse più significativo oltre ovviamente alla Basilica di Sant'Antonio per la fede di questa città. E proprio qui è stato portato il corpo della beata Eustorchio, una figura che impareremo a conoscere nel corso della mattinata ma è una di quelle figure che ci insegna che nonostante tutte le prove che possiamo avere nella nostra vita affidarsi a Dio alla fine ci porta ad una ricompensa. Noi ci rivediamo tra pochissimo, entriamo all'interno e ci portiamo anche davanti al corpo della beata. Guarda Antonella, ci hai fatto un favore grande, perché questa storia è tutta da scoprire. Una donna vessata dal diavolo che trova consolazione in Dio. L'unica risposta è davvero così. Noi lo chiediamo a padre François Dermin, presidente nazionale del Gris. Padre François, benvenuto, anzi bentornato. Grazie. Io ricordo a tutti che il Gris è il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa che è, se mi permettete, quella voce della Chiesa e della scienza che ci aiuta, se non altro, a capire una cosa, di stare attenti. Vero padre François? Perché oggi troppo spesso invece noi la consolazione la troviamo altrove. pensiamo di andare dai maghi, dalle fattucchiere, di affidarci alle stelle, agli oroscopi per capire come va la nostra vita. E per voi questo invece è un allarme concreto, è un fenomeno da tenere sotto osservazione? Senz'altro perché corrisponde alla solita ricerca di soluzioni facili, immediate ai nostri problemi. Voglio sapere tutto immediatamente, voglio poter fare tutto immediatamente. E questa è la caratteristica di tutte le forme di religiosità alternativa che è diversa da una grande religione, nessuna religione offre le soluzioni sul piatto belle fatte, belle trovate e immediate. Mentre le forme di religiosità alternativa, anche nelle quali rientra il mondo della magia e dell'occultismo, te le offre apparentemente con sicurezza, con spavaldanza, in spavalderia non lo so. Sì, in spavalderia va benissimo. Sì, scusate. E quindi c'è questo problema. Allora noi teniamo d'occhio questi fenomeni e cerchiamo di sensibilizzare la gente. Padre Frassua, perché c'è lo zampino del diavolo in tutto questo? C'è lo zampino del demonio perché appunto noi ricorrendo a queste forme di pseudo-religiosità e alla magia ci poniamo fuori dalle mani di Dio, non ci affidiamo più alla sua provvidenza, al suo amore, non c'è più il rapporto di fiducia con lui e questo ci rende immediatamente vulnerabili a qualsiasi forma di attacco del demonio. Faccio notare che la maggior parte delle vittime che poi devono fare ricorso agli esercismi sono persone che hanno avuto a che fare con l'occulti, la ricerca della magia e anche qui appunto di soluzioni facili. Senta Padre Frassua, se Dio è più forte del demonio non basterebbe essere certi di una vittoria finale per poter star meglio? Voglio dire, perché ci fa tanta paura il diavolo? Perché con il diavolo non si deve scherzare? Forse non ci fa abbastanza paura ai nostri giorni. Chapeau. Diciamo che senz'altro i giovani sono molto attratti dal satanismo, sono abbandonati a se stessi e si trovano in un vuoto ideologico creato in buona parte dalla secolarizzazione, stanno alla ricerca di qualche cosa che possa procurare loro delle emozioni forti. cercano anche attraverso il satanismo, visto su internet eccetera, di esorcizzare delle paure che hanno, avvicinandosi alla figura che dovrebbe essere la più spaventosa, ecco in assoluto, però in modo abbastanza lontano, distante, come te lo permette un mezzo di comunicazione sociale, loro ecco cercano di esorcizzare a mio avviso anche delle paure che si portano dentro e questo penso che sia molto significativo. Personalmente sarei dell'avviso che noi membri della Chiesa avremo un piccolo esame di coscienza da fare su questo perché la nostra fede rischia di diventare noiosa e perché rischia di diventare noiosa perché non è più un mistero di salvezza. Leggevo in un salmo stamattina recitando le lodi, ecco il Signore mi ha salvato dai miei nemici e da nemici che di me sono più forti. I nemici ovviamente non sono i cinesi, non sono i tedeschi. I nemici, l'unico nemico per noi nella Chiesa e nel cristianesimo è il demonio. Lui è il nostro vero nemico, colui che ci vuole portare all'esesperazione, lontani da Dio e quindi bisogna tenere d'occhio quello lì. Poi le chiederò di farci capire bene come si traveste, come si insinua nella nostra vita il demonio, padre François. Intanto, proprio perché parla di prove di vessazioni, dobbiamo tornare per un momento a Padova. Padova conserva la memoria di questa donna, dalla vita difficilissima che ha passato tutti i 25-26 anni della sua esistenza a combattere contro il demonio, aggrappandosi e all'unica certezza che era Dio. Antonella Ventre, ci pensi tu a portarci dentro questo mondo incredibile della Beata Eustochio. Sì Lucia, siamo entrati all'interno del Duomo. Alle mie spalle è l'altare centrale e in una cappellina lì, come vi dicevo, c'è il corpo della Beata Eustochio. Questa però è una storia che va raccontata passo dopo passo in tutta la sua precisione perché è fatta di tante tenebre ma anche di tanta luce e questo è il servizio. Lei nasce nel 1444 a Padova e all'interno del monastero di San Prosdocimo perché figlia è illegittima di una monaca. Quindi nasce già in una certa difficoltà. Il padre però la riconosce e quindi addirittura se la porta a casa. Il padre Bartolomeo Bellini se la porta a casa, la tiene per 3-4 anni tranquillamente però poi le affianca una donna, una che diventa praticamente poi la matrigna, che la tratta malissimo, malissimo proprio per cui a un certo punto lei arrivata a una certa età vuole andarsene e chiede di entrare come ducanda sempre nel convento di San Prosdocimo e viene accolta. Ci troviamo nel monastero di San Prosdocimo a Padova. Arriva qui e si pensa che sia impossessata dal demonio. Una serie di vicende, anche le sue fatiche spirituali, le sue tentazioni, il suo combattimento. Si racconta che un giorno addirittura rincorre le monache con un coltello e le monache riescono finalmente a fermarla e la legano ad una colonna e si accorgono proprio che la Beata sta vivendo un combattimento con il demonio e muore molto giovane, muore tra pattimenti. Gli ultimi anni addirittura camminava col bastone, dicono le cronache, sofferente e riescono a intravedere in questa monaca giovane, così chiacchierata se vogliamo, riescono a intravedere che lì c'è qualcosa di diverso, la santità e il suo modo di morire. Ed è anche interessante come le cronache dicono che poco prima di morire il diavolo la lasciò, addirittura quella sorella che le stava accanto sente dei rumori, come qualcuno si dice che stesse arrampicando. Il suo confessore addirittura cade in una specie di sonno e ha in visione la Beata, ha in visione la Beata che le dice o quanta suavità o quanta bellezza. Una storia così difficile ma che ci lascia un messaggio così bello ed importante. Noi ci rivediamo dopo Lucia, quella che vedete alle mie spalle è proprio la cappella che custodisce il corpo della Beata Eustochio e vi porteremo proprio davanti a lei, a quel volto sereno che in tutta questa storia diciamo forse ci restituisce quel messaggio di fede di cui parlavamo prima e di cui parlavate voi in studio. Quindi ci rivediamo dopo all'interno proprio della cappella con la Beata Eustochio. Grazie Antonella, grazie a queste testimonianze di una fede, stiamo parlando di una beata che è morta 551 anni fa. Immaginate quando si parla di monaca chiacchierata, cosa potesse essersi acceso attorno a lei. Padre François, io ho davanti a me un esorcista al quale posso chiedere, devo chiedere, com'è questo diavolo? Che cosa vuole da noi? Vuole essenzialmente allontanarci da Dio. Il diavolo è tremendamente invidioso, come dice il Livro della Sapienza, per l'invidia del demonio. Ecco è subentrata la morte e il peccato nel mondo. E' invidioso di noi perché pur essendo degli esseri incarnati e inferiori a lui per natura, possiamo essere e raggiungere un grado di felicità, di beatitudine eterna superiore al suo perché il grado di beatitudine non dipende dal grado della nostra intelligenza ma dal grado dell'amore. Di fatti il demonio è molto più intelligente di noi per questo che è temibile, però non è mica detto che possa amare più di noi. Noi possiamo amare più di lui. Non a caso Maria Santissima viene chiamata la regina degli angeli. Lei che è inferiore per natura agli angeli è la loro regina perché ha amato di più. E quindi i demoni ci invidiano in questo senso anche perché il mistero dell'incarnazione suppone che un Dio si fa uomo, assume la nostra natura umana e questo non lo tolera. Quindi vuole distruggere il piano di Dio e allontanare il maggior numero di persone e tutti noi siamo delle vittime indicate e potenziali e allontanare la maggior parte dell'umanità ecco dal piano di amore di Dio. Il diavolo ci punta, trova delle persone in particolare o come dice lei tutti noi sulla carta potremmo finire nella sua trappola? Siamo scelti dal diavolo o no? O lo scegliamo noi? Siamo prima di tutto tutti oggetto dell'azione diabolica che è duplice. C'è la sua azione ordinaria che tutti noi dobbiamo affrontare e che si chiama molto semplicemente la tentazione e di cui i Vangeli parlano spesso, Gesù stesso ci dice pregate sempre per non entrare in tentazione. Tentazione vuol dire che c'è qualcuno che cerca dall'esterno di suggestionarti, di portarti lontano dal seminato, lontano da Dio, di dividere essenzialmente perché diabolo significa dividere. Il demonio, la sua opera più tremenda è quella di dividere ognuno di noi da Dio e dal nostro prossimo, in famiglia, in comunità, ovunque vogliamo, anche qui in studio, ovunque. Siamo tutti esposti ai suoi attacchi e noi non possiamo pretendere di affrontarli da soli, ecco, no? Non possiamo pretendere di scoprire questi suoi interventi da soli, è più intelligente, è più forte di noi e abbiamo bisogno di Dio. Per questo che il mistero cristiano è prima di tutto un mistero di salvezza, dobbiamo essere salvati da qualcuno e questo qualcuno nella Bibbia è essenzialmente il demonio. Noi non ci accorgiamo, pare che questo è un punto molto importante perché credo che siano le domande forse banali, se sono banali io le chiedo scusa e lei poi mi aiuti a farle migliori. Noi possiamo, abbiamo tutti la possibilità a un certo punto di capire che dietro quella tentazione, dietro quel pericolo si nasconde il demonio. Mi faccia capire come si arriva poi anche a chiedere aiuto, perché altrimenti se siamo tutti così a rischio, se Dio ci ama tanto, ci dovrà mettere necessariamente delle armi per poterci difendere, anche per poter ricorrere a chi può davvero fare qualcosa per noi in quella situazione. Sì, non c'è una ricetta. Io penso che la capacità di individuare l'azione del demonio nella nostra vita dipenda dallo spirito di preghiera che ognuno di noi deve alimentare. Se non c'è questo, ancora una volta ci mettiamo in proprio, pretendiamo di affrontare la nostra vita da soli, senza l'aiuto di nessuno, con le nostre capacità intellettive, eccetera, e invece non è possibile. Dobbiamo metterci nelle mani di Dio, perché diversamente è facile di nuovo diventare anche inconsapevolmente preda del demonio, senza neanche accorgersi. Questo è molto importante. Ovviamente c'è il pericolo opposto, che è quello di vedere il demonio dappertutto, che rientra nella cosiddetta superstizione. Cioè il demonio, sì, c'è, però bisogna stare attenti, prima di non vederlo dappertutto e soprattutto a non vedere soprattutto lui al posto di Cristo, di Dio. Concentrarci troppo su di lui. Sì, Santa Teresa di Avila diceva che lei temeva molto di più le persone che dicevano sempre demonio, demonio, piuttosto che il demonio stesso. Pare François, però è difficile tutto questo, sa? Capisco dove si tratti proprio di un combattimento vero, dove l'equilibrio è difficile da raggiungere sicuramente da soli. Questo, l'equilibrio è difficile, sì. Torniamo un attimo alla Beate Ostocchio, questa storia d'amore per Dio che vince con questo amore la presenza di un demonio che non l'ha lasciata in pace praticamente mai. Solo quando, insomma, gli ha detto, ormai sei di Dio, te ne puoi andare lassù. Torniamo a Padova con la nostra Antonella Ventri. Sì, Lucia, ci stiamo spostati e ci ha raggiunto Don Maurizio Brasson, arciprete della cattedrale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con lei ci stiamo spostando e ci stiamo avvicinando al corpo della Beata Ostocchio che è qui da più o meno un anno in cattedrale, nel Duomo di Padova, esposta per tutti i fedeli che arrivano qui. Don Maurizio, in quest'anno le persone che ha visto arrivare. Che cosa chiedevano? Cosa portavano dinanzi a questo corpo? Il riferimento alla Beata Ostocchio è importante per tutte quelle persone che sperimentano il disagio dell'anima, dello spirito. Le malattie psichiche sono difficilmente definibili e quindi il riferimento a chi ha sperimentato questo disagio affidandosi a Dio diventa importante. La Beata Ostocchio risponde proprio a questa domanda. Lei ha combattuto contro lo spirito del male ed è uscita vincitrice e così chi fa riferimento a lei può sperare in questa risposta positiva da parte di Dio. Ed è bello vedere questa risposta esposta proprio nel Duomo. Noi vogliamo vedere qual è il messaggio che ad oggi la Beata Ostocchio ci lascia proprio attraverso la croce e questo è il servizio. La vita della Beata Ostocchio è Vangelo ed è carica di speranza. È il Vangelo della luce che splende tra le tenebre. È il Vangelo di quella luce che viene a illuminare un popolo che è immerso nelle tenebre. E quindi è carica di speranza per tutti, anche per le persone che in questo momento della loro vita sentono talmente forte il potere delle tenebre che può essere quello della tentazione, che è la via ordinaria con cui il maligno ci tenta, oppure anche di realtà più pesanti, straordinarie come quello della vessazione, dell'ossessione oppure di una possessione di diabolica che la luce di Cristo sprende anche nelle loro tenebre, sprende proprio nelle loro tenebre. Ecco, questo è il Vangelo della vita della Beata Ostocchio. Nella raffigurazione tradizionale la Beata Ostocchio viene rappresentata mentre schiaccia sotto i suoi piedi il demonio e tiene tra le sue mani vittoriosa una croce. Ecco, questa è la via che Ostocchio ci sta indicando, cioè che l'unico potere, che l'unica salvezza, che l'unica luce è quella della croce. Nella sua vita noi leggiamo che il suo corpo è stato martoriato, ha sofferto e possiamo dire che quel corpo si è fatto simile al corpo di Gesù in croce. E però al pari di Gesù in croce lei è continuato ad amare. Don Maurizio, se noi ci volessimo lasciare questa mattina con un messaggio da portare con noi, noi giovani, ma anche tutti coloro che sono nella prova, come diceva prima, la Beata Ostocchio cosa ci dice? Penso che ci dia come messaggio questo, la fedeltà a Dio nel tempo della prova, anche quando non vediamo risposte immediate. Continuare ad essere fedeli a Dio e Dio sarà fedele. Io la ringrazio proprio perché questo è il fondamento della nostra fede, quindi noi da qui, Lucia, con questo messaggio bellissimo ti salutiamo e ti ridiamo la linea. Antonella, noi davvero ti ringraziamo anche per averci fatto vedere quel volto. Io ho visto il pubblico incantato, un volto che narrano le cronache e torna all'antica bellezza solo in punto di morte perché il diavolo era riuscito, secondo tradizione tramandata, era riuscito anche a deformarle quello sguardo che parlava di Dio. Padre François, io guardo i suoi occhi, vedo la sua serenità e mi domando come sia possibile non avere almeno apparentemente paura di qualcuno che mette alla prova anche lei con la sua attività di esorcista ogni volta. E le chiedo, noi dobbiamo avere paura del diavolo? Facciamo peccato a dire ma tanto non me ne importa, non mi potrà toccare. E come attraverso lei, attraverso quelli che fanno, svolgono la sua missione? Noi possiamo essere salvati. Certo, bisogna, il demonio bisogna rispettarlo perché siamo consapevoli di chi è il demonio. Rispettarlo nel senso di riconoscere la sua forza superiore alla nostra, umana. Però dall'altra parte noi da cristiani siamo dei tremendi opportunisti perché ci mettiamo dalla parte del vincitore. Noi siamo dalla parte del vincitore. Io quando esercito il mio ministero so di avere il Cristo e la Chiesa dietro le mie spalle, non è un combattimento personale. Per cui certo devo stare attento a non offrire il fianco agli attacchi del demonio in tutti i sensi, anche con i miei peccati personali. Devo stare molto attento e però sono convinto dell'aiuto del Signore e della Chiesa. Non agisco a nome mio ma a nome di Cristo e questo mi dà una grandissima sicurezza. E noi dovremmo stare tutti da questo lato sereni se siamo credenti, ecco, di essere in buone mani. Ovvio il Signore permette la prova che viene dal demonio come la Beata Eustocchio che è diventata santa pur essendo posseduta. Una caratteristica rara. È l'unica, esatto. Quasi. Da quanto... Ce ne sono altri, due o tre altri, ecco ancora, però è la sua caratteristica. Quindi lei ha vinto e penso che il ruolo dell'esorcista è quello di manifestare in modo palese come l'ha fatto lei la Beata Eustocchio, la vittoria di Cristo sul demonio e sul male. Perché Dio vince sempre. Sì. In ultima analisi, sì. Permette tanti mali ma li permette per trarne un bene molto maggiore al male che è stato compromesso. Padre François, questa è la vera consolazione per l'anima. Grazie di cuore. A padre François Dermin, mi sento un po' più leggera rispetto a quando iniziato questo spazio. Grazie davvero di cuore. Grazie a lei. E grazie di parlare di queste cose quando è presto alla mattina.